Parte con una vittoria il campionato della New Basket Agropoli che ieri sera al Pala di Concilio ha battuto la Mezzia per 68 a 67. È stata una gara molto combattuta, entrambe le compagini hanno dominato a turno. Le prime due frazioni sono state prevalentemente a pannaggio dei Delfini dopo un inizio un po' sottotono. Il terzo quarto ha visto il vantaggio dei Fenici di coach Barilla fino alla rimonta e alla vittoria conquistata negli ultimi secondi con un canestro di Giuseppe Lepre. È stata una buona prova da parte di tutti i ragazzi scesi in campo dopo oltre un anno di stop causa pandemia. Prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Di Sergio scomparso recentemente. La New Basket Agropoli ha anche giocato con il lutto sulla maglia. Questo è il commento a margine del match di coach Franco Lepre sapevamo che sarebbe stata non difficile ma di più. Voglio fare complimenti ai ragazzi. Abbiamo rispettato in pieno il piano partita, tutti hanno dato il contributo che dovevano dare e sono strafelice per com'è andata, specie per i ragazzi che sono mesi che si allenano senza poter giocare e questa vittoria se la sono meritata. È stata una partita strana, prosegue, fatta di parziali. Loro sono una buonissima squadra e stare a contatto con loro punto a punto per poi vincere alla fine. La partita è stato davvero complicato e se ci siamo riusciti è stato tutto merito dei ragazzi. Ci godiamo la vittoria che dedichiamo a Franco Di Sergio, poi martedì conclude testa a domenica quando affronteremo Salerno. I tabellini New Basket Agropoli Borrelli 14 Farese 5 Lepre 10 Di Mauro 15 Tarolis 6 Pechic 10 Cordici 6 Norci 1 Allenatore Lepre Basket Lamezia Scialabba 19 Luzza 8 Monier 10 Foll 9 Ferretti 6 Sindoni 13 Spasojevic 2 Allenatore Barilla Ar держiamo Place Secchi 9 Verdi Poi Mi Ve grooso Leодore Bello Anderatore Scialabba 19 Punta Dolore Sign Le 2007 verde